Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, il lutto è il sentimento di intenso dolore che si prova per la perdita, in genere, di una persona cara. Il costrutto teorico di lutto presenta rilievi di notevole rilevanza, sia in ambito psicologico sia antropologico. Nelle culture occidentali viene solitamente associato al colore nero. Qualche tempo fa Carpentieri aveva scritto sui social un ringraziamento agli ospedali dei colli fatto di tanti eroi medici come il dottor Ciro Battiloro del Monaldi, un luminare dell'oncologia il quale mi tiene in cura, il mio riferimento fisico e morale per combattere questa battaglia. Un ringraziamento al dottor Umberto Di Serio, al dottor Andrea Petraio del Monaldi e al dottor Mario Guarino del CTO. Voglio dire loro grazie per come si adoperano giorno dopo giorno, per salvare vite umane. Un ringraziamento alla direttrice, dottoressa Iervolino e al direttore dottor Giuseppe Fiorentino. Grazie a tutti voi combatterò fino alla fine. Il tumore, alla fine, ha vinto. Frank Carpentieri, noto come il DJ di Made in Sud è morto. Musicista, DJ e produttore, classe 1976. Autore di tutte le musiche dello show comico Made in Napoli. È stato storico collaboratore di Alessandro Siani e aveva lavorato anche con Enzo Avitabile, Alma Migretta, Subsonica, Clementino, Rocco Ant, Antonio De Carmine. Grazie a tutti. Grazie a tutti.